Musica 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 Credo che in questo momento preferisci abbracciare la Coppa del Tuomoroso, giusto? Assolutamente sì, penso che non ci sia paragone, perché ha visto la partita di oggi sofferta, diciamo così, però questa non ha prezzo, non ha prezzo, bella fresca. Una vittoria importante per rilanciare la Brescia, una coppa che può essere il trampolino di lancio, una base di partenza. Sì, può essere un trampolino di lancio, una base di partenza, per adesso, per la stagione di quest'anno è un punto d'arrivo, perché alla fine era l'ultima partita. Però ce la siamo meritata, abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo avuto una semifinale difficile contro una delle favorite dello Scudetto. Siamo arrivati qua a onore a Napoli perché ha fatto una partita bellissima, loro hanno grinta, hanno passione, però noi con un po' di esperienza alla fine la portiamo a casa. A chi la dedichi? La dedico a me, perché comunque quest'anno è stato lungo e ci ha messo un bel po' di cuore, e poi a tutte le mie compagne le dedico, che sono state bravissime, e logicamente anche a mio papà, che non sono potuti venire oggi. A tutti. Forza Brescia! Forza Brescia!